Mi impedivano di mangiare, ho perso dieci chili nel giro di tre mesi. Si erano spaccati tutti i denti, quindi ero proprio messo male. La protese precedente veniva letta solo da un malato. Pessimi perché mi impedivano di mangiare, ho perso dieci chili nel giro di tre mesi. Servizi buoni, i protocolli sono stati quelli che mi hanno comunicato dal centro di Bergamo, Federico, e li ho seguiti tutti, non ho avuto problemi. Ho nessuno sconforto, solo un po' di dolore, poi gonfiore naturalmente, perché mi hanno asportato tutto quello che c'era in bocca, però con un po' di pillole è stato bene. Ampiamente perché, soprattutto per la pulizia e la serietà del chirurgo. Il meglio, molto meglio. Certo che migliorate, stando più tranquillo, più sereno e avendo la possibilità di mangiare. Naturalmente è calato il nervosismo, l'estato d'ansia e tutto il resto. Sì, veramente io l'ho già fatto a diverse persone e più di qualcuno verrà qui presso la vostra struttura. Sinceramente niente, per me era tutto normale, nella norma, le ho seguite dettagliatamente, non ho avuto problemi sotto quell'aspetto lì, sono stato benissimo. Tutto in una maniera eccezionale, persone gentilissime, disponibilissime, molto preposte all'asfolto di chi avevano di fronte. Non si sono mai nervositi, nonostante qualche scatto che ho avuto io, non si sono mai alterati.